I tuoi compagni ti riconoscono, la persona che sei, il leader che sei, ti devi dimostrare a loro come ci si comporta. Era un difensore corretto, duro all'occorrenza, ma mai per fare male. Ci si aiutava in un secondo, bastava una parola. Lui sempre a ridere, sempre contento, ma lui sta guardando sempre tutto. Non mi è capitato tante volte nella mia caratteristica, ho avuto la sensazione di aver trovato il capitano con la C maiuscola. Quando c'era da scherzare, lui sapeva quando era il momento, quando si andava sul campo non ce n'era più nessuno. Mancava la sua presenza, lui ti avrebbe aiutato ad affrontare la sua sola. Stava arrivando l'agente sportivo e ho fermato la macchina un paio di metri prima perché mi tremava il corpo. Ci hanno guardato negli occhi e mi hanno detto adesso cosa facciamo? Come facciamo ad andare avanti? Come facciamo ad andare avanti?